In occasione della festa per il decennale del liceo musicale Carlo Pisacane di Sapri, diretto dal dirigente scolastico Franca Principe, nei giorni 4 e 5 giugno si terranno nella certosa di San Lorenzo a Padula due giornate dedicate alle esibizioni degli istituti ad indirizzo musicale. L'evento è patrocinato dall'amministrazione comunale di Padula guidata dal sindaco Michela Cimino. Gli istituti ad indirizzo musicale della provincia salernitana si alterneranno nelle esibizioni presso la certosa di San Lorenzo a Padula a partire dalle ore 19. Due serate di festa all'insegna della musica per celebrare il territorio, la sinergia e la buona scuola. 300 musicisti, 8 licei musicali, 2 orchestre sinfoniche, un'orchestra junior smim, 3 jazzisti di fama internazionale sapranno emozionare il pubblico presente. Gli istituti che presenzieranno in occasione del decennale della scuola saranno il liceo musicale con falonieri di Campania, il liceo musicale Primo Levi di Eboli, il liceo musicale Alfonso Gatto di Agropoli, il liceo musicale Parmenide di Vallo della Lucania, il liceo musicale di Filippis Galvi di Cava dei Tirreni, il liceo musicale Carlo Pisacane di Sapri, il conservatorio di Salerno Martucci, il liceo musicale Alfano I Salerno, il liceo musicale Galizia di Nocera e il conservatorio di Napoli San Pietro a Maiella.